un altro video di pallone ragazzi e giochiamo a calcetto col solito video di pallone forse chi sei? non va si va non va si va no 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 non basta per me prego andre 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 chi sei? no non è vitiato maneggia la miseria non è vitiato che sei non è vitiato che sei maneggia la puttana maneggia c'è invece la testa qua cosa ti fa? maneggia porco dio ma che stimi? perchè mi fai truffare nero? vai arrivati vai arrivati altri gong prego oh scatto andrigo scatto hai mo' la faccio aperto in mezzo in mezzo in mezzo in mezzo dai non dai ma tu facciate mi fai ai muo ti ho ma sei Attacca la lega da omigrazione e poi che fai a dire? Giuseppe! Giuseppe! Chiudo! Giuseppe! Giuseppe! Chiudo! Giuseppe! 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 I fuori! Secondi di una parte! Ma la lista! Ha la battuta! e io canta all'abito? Non ci faccia ancora oggi! ! battuta battuta è il sudaggio fatto e scuole partite battuta sono messi a te pure in mezzo dietro dietro scusa non ci stanno i furi vai passa vai 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 mazzo chi lo può arrivare in te lo vedo? vai chiuda andrea 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 a veri culo gol 3-3 i video di ballone e spiegiamo i video di ballone e i video è più forte più rinnovare vado 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 stai a 5.19 prossima partita ma che cazzo fai? polizio, non c'è E' il polizio, non c'è. Aspetta, quale cosa è tutto? Uno, due. Bravo, guarda. Passa, Giuseppe. Cazzo, che storta. Cazzo, guarda la mia. È buono. È buono, è storta. Battuta. Cazzo! Ma c'è un po' lì. Hai combinato. Niente. Ah boi. Stoppa le video perché sei minuti...